Fuori lo squalificato Cercelluti, gli infortunati Marianischi e Farias. Dal primo minuto di Rocco nel tridente completato da Fratangelo e Tomassini, Romagnoli a specchio davanti D'Angeli e Ambrusini a supporto di Graziani, metronomo l'ex pescara Emanuele Cascione, prima parte di questo campionato a Sant'Arcangelo. Comincia nettamente meglio il 4D che prende da subito il comando delle operazioni. Per ben due volte Cenci insidia la porta di cima, per contropinetto pragmatico in simili casi si dice così. E infatti al primo a fondo la squadra di Amaulo sblocca il punteggio da esposito a Tomassini, scarico intelligente per Di Rocco che entra in area ed esplode un grandestro all'incrocio, prodezza della classe 97 ex Atalanta cresciuto nel pescara. Davvero un gol d'applausi. Gli ospiti accusano ma la 37esimo si rendono pericolosi, cross di D'Angeli, Graziani stacca, sfera di poco alta. Ripresa al 17esimo, Pineto ad un passo dal raddoppio, cross di Della Quercia, girata di Camplone, prodigioso il riflesso di Aglietti. Versante opposto, sponda di Graziani, Ambrosini colpisce male, spedisce alle stelle. Che occasione? Esce Tomassini, entra a cruz, al 28esimo invece Fratangelo è sostituito da Pietrantonio che si piazza davanti a Mazzai. 4-1-4-1, scelta troppo conservativa. A conti fatti, non proprio illuminata. 4 minuti più tardi, punizione per gli ospiti, calcia Ambrosini. Il tiro non è irresistibile e neanche angolato. Sorpreso Schiba, 1-1. Pieno recupero, 47esimo, punizione di Ferrario, ex Lanciano. Cortesi sembra in anticipo su Della Quercia, nessun dubbio per Pascariello di Lecce che indica il dischetto. Cascione di ghiaccio, spiazzato Schiba. Dunque il veleno nella coda, ma al di là degli episodi, meritato il successo del Forlì. Stefano Protti, Daniele Amaulo e Roberto Gemmarino. Beh, intanto vi ringrazio. Non è facile trovare un'intervista fuori casa dove gli addetti ai lavori danno merito a una squadra che secondo me giustamente ha fatto meglio e ha vinto, anche se ha vinto solo al 94esimo. Capisco il ramarico della squadra di casa, però. Addirittura dopo un primo tempo, secondo me, è fantastico. Siamo andati sotto 1-0 e poteva cascarci il mondo addosso. Invece abbiamo fatto una buona ripresa, anche se è stata più equilibrata, devo essere onesto, però abbiamo meritato di vincere sicuramente. Sono molto felice, soprattutto per i miei giocatori che lavorano tanto. Amaulo, questo è un brutto passo falso, no? Beh, è una sconfitta che non ci voleva, anche perché come è venuta. È una partita difficile perché sapevamo la forza del Forlì che è una squadra che merita una classifica diversa e ha un organico importante. Anzi, abbiamo avuto l'occasione per addoppiare con il Campolone dove il Porcheroro si è superato. Poi sono stati questi due episodi negativi che ha portato questa sconfitta che sicuramente non ci voleva perché poi la squadra avrebbe meritato un risultato diverso. Stato due, una prudezza di Ambrosini sul calcio piazzato, poi sto arrivando al 94esimo e non sta mai giudicato perché era lontano, però ho visto la cavia della Quercia ha tre buchi sul piede, quindi qualcosa è successo. Male nell'ultimo periodo, soprattutto in casa, soltanto due punti e addirittura due sconfitti. Sì, sicuramente sono dati magari su cui riflettere, però poi quando non ci siamo esaltati, quando abbiamo fatto delle vittorie consecutive, adesso è un momento un po' così e ci sta e il campionato vero, come ho detto, in tante circostanze inizia dal giorno di torno. Adesso ormai ogni partita è una finale. Roberto Gianmarino, commentiamo questa sconfitta, la prima della 2019. Mi pare di capire, livido di rabbia. Sì, io credo che questa è una partita dove uno può pensare se il Pineto ha giocato bene o ha giocato male, però è una partita che stavamo vincendo 1-0, secondo me gli ha dato un calcio di punizione l'arbitro sul fallo di Amadio che aveva la palla e da lì è scaturito il gol del pareggio e il rigore al 95esimo della Quercia, ha tre buchi alla caviglia che gli ha causato quel signore che poi gli ha dato il rigore e gli ha dato un calcio a della Quercia. Riccardo, molto probabilmente domenica non potrà giocare perché c'è una caviglia con tre buchi di tacchetti. Ed è stato anche ammonito. Ed è stato anche ammonito. Io dico che da Avezzano due rigori fuori area decretati ci hanno costretti a rincorrere il risultato. Oggi è una partita che stavamo giocando è una partita difficile sicuramente. Brutta prestazione. Brutta prestazione. Per l'amor di Dio, noi sappiamo i nostri problemi e le difficoltà che abbiamo oggi a centrocampo. Però non è bello perdere una partita al 95esimo su un rigore che non c'era e un calcio di punizione regalato dall'albitro. Favano due episodi molto negativi che non fanno bene lo sport. Noi siamo educati e ci comportiamo bene però sono situazioni che poi pesano perché noi stiamo facendo un campionato per cercare di entrare nei play-off e non è giusto che rigori come quelli dell'Avezzano o come questo di oggi al 95esimo a tempo scaduto un rigore molto, 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 molto dubbio dà fastidio. Ha chiesto spiegazioni Gianmarino al direttore di gara Pascarello di Lecce. Noi non parliamo con i direttori non parliamo con nessuno. Io spero che il commissario abbia visto quello che è successo e non va bene perché se questa è una piazza di persone, di signori non è giusto neanche calpestarsi con episodi del genere perché adesso si stanno ripetendo sono tre rigori che secondo me non c'erano né in cielo e né in terra. I due dell'Avezzano li avete fatti rivedere questo di oggi una mischia in area al 96esimo non credo che... cioè ci vuole il coraggio deve essere proprio un rigore ineccepibile per farti perdere una partita al 96esimo. Questo è quello che mi ha insegnato il calcio da giocatore e da dirigente. Parliamo però del trend in casa soprattutto molto negativo negli ultimi tempi appena due punti in quattro partite. Sulle partite in casa stiamo facendo molto male però io poi guardo le partite valuto le situazioni credo che in quelle due partite con il Francavilla e con l'Avezzano meritavamo di vincere oggi forse poteva anche starci un pareggio ma non una sconfitta. Poi con l'Agnonese quello è uno scivolone che ci siamo creati da soli abbiamo fatto un errore con un mezzo tiro e non siamo stati bravi a giocare. Io non sto giudicando il Pineto in questo momento il Pineto in questo momento è una squadra che in questo momento è un po' in difficoltà perché a centro campo siamo contati.